Grotta Mare, 1 ottobre 2017, chiesa a Gran Madre di Dio. Caro Don Roberto, desideriamo farti immagini di una piantina di vivo, simbolo di pace e della nostra disponibilità, a collaborare con te affinché dalla tua prestenza per noi possano nascere tanti aiuti di bene. Maguri sinceri, i tuoi parli di amico.